Che vantaggi ha un'impresa cliente a rivolgersi all'NSA? Innanzitutto una cosa estremamente semplice, nel senso che noi facciamo il lavoro che dovrebbero fare da soli. Chiaramente quando tu richiedi un finanziamento alla banca devi dare dei documenti, devi dare delle informazioni, ma devi dargli anche un'elaborazione dei documenti e delle informazioni. Ecco, in questo noi ovviamente siamo specializzati, quindi diciamo che siamo un pochettino più bravi della media degli imprenditori che si occupano ovviamente di altro. Quindi la nostra efficacia è data anche da circa oltre 15 mila operazioni attualmente erogate, ormai abbiamo superato i 3 miliardi di erogato. Ma che cosa facciamo in realtà? Noi raccogliamo i documenti, raccogliamo le informazioni e facciamo in modo che queste informazioni, questi documenti vengano fruite dalle banche con cui noi lavoriamo, con cui noi chiediamo i finanziamenti per le imprese che ci hanno incaricato, ma vengono fruiti correttamente con il linguaggio giusto o con le informazioni corrette. Alle volte è spesso, anzi più che alle volte, c'è una grossa difficoltà di contatto tra l'impresa e la banca, è una questione proprio di linguaggio, di culture diverse e quindi bisogna sempre ricordare e noi lo facciamo, i nostri imprenditori, che le banche gestiscono i soldi dei risparmiatori e quindi devono prestare molta attenzione. Questo significa che bisogna dargli informazioni i documenti corretti, completi e presentati secondo quello che loro richiedono. Poi l'elaborazione chiaramente sta nell'esperienza, è quello che ovviamente può fare la differenza. Noi oggi ogni 10 aziende che ci incaricano li portiamo a finanziamento sempre. Quindi l'anno scorso abbiamo fatto circa 800 milioni di erogato per 4.400 operazioni. Siamo ovviamente l'operatore, il mediatore creditizio che si occupa di imprese più grande in Italia per fattore. Grazie al Presidente del gruppo NSA, Gaitano Stivo.